E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti, condividete questo video con tutti i tifosi dell'Inter e non che conoscete, seguitemi sui social, guardate i video già fatti, calciopoli, calciomercato, i video fatti in questi giorni. Vi ricordo che stasera ore 21 per abbonati base uscirà il video con analisi, pronosti e assistenza a fante calci per la prossima giornata di Serie A, quella che inizierà domani l'ottava. E signori, quest'oggi voglio fare un video relativo ad una vicenda che sta un po' devastando non solo il mondo interista ma anche lo youtubismo interista. Sono uscite delle belle perle riguardo la vicenda di Peith, riguardo la vicenda di questo fondo sovrano che secondo alcuni, anche Libero ha fatto uscire la notizia, sarebbe in procinto di comprare l'Inter o addirittura l'avrebbe già comprata e si starebbe aspettando l'ufficialità della cosa. Allora, volevo dire la mia, volevo dire la mia situazione, fare due chiacchiere sulla vicenda. Allora, io vi spoilerò già, onestamente non è che mi perdo, vi porto i ragionamenti contorti, vi dico onestamente che ci credo poco a questo discorso qua. Mi pare più che altro una suggestione, ma non vedo tutte ste basi onestamente affinché la cosa sia reale o diventi reale. Vi spiego anche perché. Allora, in molti sottovalutano comunque Suning e Li Zhang, perché è da quest'estate, un po' da qualche mese, che sembra che questi siano diventati i figli della serva, che non continuano più niente, che hanno l'acqua alla gola, che non vedono l'ora di vendere la squadra, che sono assaliti da debiti, creditori. In realtà io non vedo questa situazione, soprattutto dal punto di vista sportivo. Cioè, alla fin fine, se noi analizziamo l'Inter oggi, che cos'è? È una squadra che sicuramente non gode più delle sponsorizzazioni di cui godeva due o tre anni fa da parte di Suning, ma ha maggior ragione proprio per questo, è una società che agli Zhang e a Suning può fare comodo. È una specie di... è una specie di testa di ponte dormiente per gli Zhang e Suning. È una società, sostanzialmente, che si autofinanzia, che quest'estate, anche grazie al lavoro ottimo, a mio avviso, di Marotta, ha dimostrato di poter rimanere competitiva, come per certi versi, dal punto di vista tecnico, ero qui a dirvi, anche a fronte di cessioni piuttosto pesanti, tradotto, hai venduto Lukaku e Hakimi perché serviva, anche se, per esempio, su Lukaku ha contato anche la volontà del giocatore, hai venduto due giocatori importanti, ma è anche vero che sei andato ad investire con intelligenza, tra giovani, tra giocatori più esperti e via dicendo. Oggi l'Inter è una squadra, comunque, che si sta giocando il suo girone di Champions, che è in testa al campionato. La proprietà cinese dell'Inter è l'unica proprietà non italiana che può dire di aver vinto lo scudetto in Italia. È una società, comunque, che fa comodo, fa comodo a Suning e a Zhang. Anzi, vi dico di più, specialmente se riescono a gestirla in questo modo, cioè a rimanere competitiva anche senza le iniezioni dei capitali che arrivavano dalla Cina e che non si possono più fare. E tu vai a sapere che un domani magari riprendono questo tipo di collaborazioni, si allentano i cordoni della borsa per l'investitorato cinese all'estero, fa comunque comodo avere, secondo me, una testa di ponte in Italia, anche per operazioni di tipo diverso, per avere una presenza, per avere un presidio di questo tipo in Italia o comunque in Europa. Quindi non sottovalutiamo Suning e Zhang, perché io sento video, sento cose, sembra che si stia parlando di straccioni che hanno la patata bollente in mano, che devono a tutti i costi vendere e che non vedono l'ora di liberarsi da sto fardello. Ma io non sono assolutamente convinto. Paradossalmente ha più interesse una proprietà come quella del Milan a trovare dell'investitorato forte che ti può immediatamente rilevare a grandi cifre la società. Non perché il Milan sia nella merda, anzi sapete che io sono un grande fan del fondo Elliot, l'ho sempre difeso. In generale penso che i fondi, se ben inseriti, possano fare anche bene alle società di calcio. Ma essendo un fondo di investimento ha di per sé l'interesse a cedere a cifre ottime per realizzare quel tipo di plusvalenza, quel tipo di valore in più. Ovviamente ce lo può avere anche Zhang questo tipo di interesse, ma è un discorso diverso perché Zhang rappresenta un'industria, rappresenta un'impresa, ma ancora di più rappresenta uno Stato, perché sapete meglio di me che in Cina l'economia è profondamente legata allo Stato e viceversa, rappresenta uno Stato, una nazione, un'economia che può avere l'interesse a mantenere certe teste di ponte in delle economie occidentali e via dicendo. Oltretutto c'è un'altra questione, quella di Interspac, che fa per adesso, sta facendo uscire gli Zhang a testa altissima, perché anche questi, e vi dicevo, quest'estate guardate che può essere anche un'operazione di tipo magari culturale per far sì di cercare di togliere da mani cinesi di un asset come quello dell'Inter, però se sono vere le cifre che Interspac è riuscita a raccogliere o non raccogliere, non è che sia sta gran operazione e sta gran figura, questo per dire che l'Inter è saldamente in mano degli Zhang, è saldamente in mano degli Zhang. Poi venendo, e quindi questa è l'asse portante, cioè hanno veramente l'interesse secondo voi a vendere l'Inter, a liberarsene così e chi se ne frega. Dopo due, tre anni che sono qui, parliamone, parliamone. Può essere, ma può essere anche di no. Poi in seconda istanza, Pif. Pif ha preso il Newcastle da poco, ok? È da qualche giorno che l'ufficialità è arrivata, ma ovvio che non è che è una roba che si è sviluppata in un giorno, boh, la compro, ciao, ufficializza. Evidentemente è una trattativa che va avanti da mesi, ma onestamente non capisco il senso di andarsi a prendere il Newcastle, ok? E poi di andare a prendere l'Inter. Cioè, anche a livello comunicativo, a livello progettuale, non ti dà una grande idea, onestamente. Sembra che arrivino questi e comprano un po' a destra e a manca, andò coio coio in Inghilterra il Newcastle, in Italia l'Inter, in Francia il Marsiglia, in Germania poi cosa l'Hamburgo, locomotive, cioè, non mi sembra proprio un modo di agire, capisco se è una cosa fatta nel corso degli anni, tipo, non so, adesso mi prendo il Newcastle, poi magari mi espango nella MLS, come all'epoca era, come aveva fatto per esempio Toir, che aveva, non mi ricordo se il Dallas o un'altra squadra di quel tipo lì, un conto è agire su mercati diversi, su mercati anche non concorrenziali, per esempio, mi pigli il Newcastle e mi pigli, non lo so, il New England Revolution, in MLS, che allora posso fare anche degli asset, delle cose abbastanza equiparabili, ma se tra un mese, tra due o tre settimane esce che gli arabi hanno comprato l'Inter, i tifosi del Newcastle cosa dicono? Siamo qui a fare le belle statuine per l'Inter, siamo diventati la squadra satellite dell'Inter, investono di più da noi, investono di più, cioè, anche comunicativamente, mi sembra una cosa un po' azzardata, ecco, magari avrebbero potuto prendere l'Inter in luogo del Newcastle, mi viene più da pensare una cosa così, mi viene più da pensare, quindi, a me sembra, sembra tanto una suggestione, onestamente, poi, vi ripeto, magari mi sbaglio io, però, visto che, sto video lo faccio ovviamente non perché ho fonti, perché vi dico, so, conosco Tizio Caio che mi ha detto, io lo faccio seguendo il mio ragionamento, seguendo quello che vedo, e razionalizzando, a me non sembra una cosa molto, molto fattibile, questa poi, onestamente, non capisco neanche sto clima di segretezza che ci sarebbe, del tipo non si può dire, se vengono fuori cose, i giornalisti vanno in crisi, ma non è assolutamente vero, perché i giornalisti sono deputati a poter dire, a poter dare delle anticipazioni, anche in campo economico, altrimenti non esisterebbero le anticipazioni, non esisterebbero le notizie, tu puoi anche querelarlo un giornalista, ma se poi il giornalista ti dimostra, che aveva avuto ragione, perché tu hai comprato l'Inter, e quelle clausole erano vere, e tu con la querela, con le minacce, ti ci puoi culire il culo, perché lui aveva ragione, quindi anche sto clima di segretezza, non lo possono dire, non si sa, io penso che se l'operazione fosse, se l'operazione fosse concreta, se veramente in questi giorni, in queste settimane, ci fosse, o ci fosse stato un interesse concreto, legacy, preliminari, accordi, abboccamenti, e via dicendo, credo lo, credo lo si saprebbe in modo diverso, credo che non ci si ridurrebbe, a notizie, a spizzichi e bocconi, di insider, e di cose, e di cose di questo tipo qui, abbastanza secondarie, quindi personalmente, io non credo che l'Inter passi a pif, nel giro di un mese, nel giro di qualche settimana, io penso che l'Inter resti, in mano a Zhang, oltretutto, vi ripeto, io vi invito a considerare, o riconsiderare, lo stato di Zhang, che non è quella, quell'impresa in crisi, anche perché sento spesso dire, si fa sempre, sto cazzo di parallelo, anche onestamente, poerile, perché poi c'è chi si gasa, perché, ha le presidenze straricche, ecco, io lo sceicco, compro tutto, compro, che due coglioni, poi il calcio bello, è quello fatto, in modo esiziale, con le intuizioni, con i progetti, non con i miliardi, per quel che mi riguarda, no? Tipo Leonardo, che Dio ce ne scampi, e ce ne gambe, che ha rotto anche un giorno, faremo, sta retorica, sul misurarsi il cazzo, con la ricchezza del presidente, veramente, che è una roba, altamente insopportabile, per quel che mi riguarda, ma anche lì, parliamone, cioè, nelle società di oggi, che sono rette da fair play finanziario, l'Inter, sta gestendo, la sua società, a livello tecnico e sportivo, molto bene, perché hai ceduto, mai reinvestito in modo intelligente, l'Inter resta competitiva, è una squadra che può assolutamente lottare, per i traguardi, per cui ha lottato anche lo scorso anno, vuoi per meriti suoi, vuoi anche per demeriti degli avversari, ma è una squadra che per lo Scudetto, per esempio, ci può lottare assolutamente, per la Coppa Italia, ci mancherebbe, per il girone ottavo di Champions, altrettanto, quindi voglio dire, anche qui, non è che stiamo parlando di una società, con l'acqua alla gola, che sta lottando, è una società comunque, che ha delle garanzie, che ha un suo cuscinetto economico, che ha dei suoi valori, per quel che riguarda gli asset di giocatori, per quel che riguarda gente che schiera in campo, per quel che riguarda possibili plusvalenze, quindi onestamente, mi sembra anche un po' drammaticizzata, sta cosa di Zang, che deve vendere a tutti i costi, vende se ha l'interesse a farlo, e io non credo che questo attualmente, ci sia, o meglio, ci può essere, perché ovviamente, se qualcuno va da Zang, e gli offre, 2 mila miliardi di euro, tira una cifra a caso, ovviamente non è scemo, la vende anche lui, però, se si parla di una trattativa, se si parla di, di spizzichi e bocconi, di abboccamenti, non è che vai da uno, che ha la bava alla bocca, che dice, cazzo, devo vendere l'inter, a tutti i costi, se no, mi ammazzano, dubito che la situazione sia questa, ecco, ditemi cosa ne pensate voi, se invece credete che con PIF sia fatta, e via dicendo, un caro saluto, e a stasera, per i pronosti.